Ciao a tutti, da Rosario Alfano, ideatore del metodo Destino Terapia. Oggi parliamo del rapporto che può esistere tra il proprio destino, l'individuazione del proprio destino ideale, quindi della propria chiamata, e gli archetipi. In particolar modo possiamo partire e approfondire quelli che sono gli archetipi junghiani, ossia dodici figure, dodici personalità se vogliamo, dodici configurazioni e modi di essere che sono stati inizialmente identificati appunto dallo psicologo Carl Jung e che incarnano quelle che sono condizioni appunto ancestrali presenti nel patrimonio mnemonico e antropologico dell'essere umano. Queste dodici tipologie sono l'innocente, l'orfano, il guerriero, il custode, l'amante, l'esploratore, il distruttore, il creatore, il sovrano, il saggio, il mago e il folle o il salto in banco. Sono dodici appunto personalità, ognuna delle quali possiede comunque una sua particolare caratteristica, possiede più caratteristiche in realtà, possiede un modo di affrontare le difficoltà, un modo di reagire alle difficoltà. È caratterizzata ognuna di queste figure da pregi e difetti, da visioni della vita, da necessità, da obblighi, da condizionamenti, da catene, ma anche da poteri, segreti. È caratterizzata da potenzialità oltre che da poteri, da strumenti, da predisposizioni. Ecco che sarebbe importante per te capire quale di questi archetipi risuona meglio con la tua natura. Questo potrebbe aiutarti soprattutto se sei in una fase di crisi o di insicurezza o di disagio. Se in questo periodo della tua vita, come magari in altri, stai cercando di capire chi sei, qual è la tua missione, qual è la tua vocazione, qual è la tua chiamata, ecco che adesso lavorare con gli archetipi è una possibilità in più, è molto efficace, è molto utile per trovare la strada, individuare finalmente l'inclinazione, l'orientamento, la vocazione, quello che viene definita la finalità esistenziale o che Hillman chiama il paradigma, l'immagine. E facendoci alla metafora della ghianda, utilizzata da James Hillman nel Codice dell'Anima, è quella quercia che è già presente all'interno della ghianda e la ghianda l'abbiamo tutti. Quindi esplorare gli archetipi, provare ad entrare in risonanza con uno o un altro di questi 12 modi di essere, di questi 12 caratteri, di queste 12 figure è molto importante per noi. Allora, io ho pensato di realizzare circa 13 video probabilmente un primo introduttivo e uno per ogni archetipo. La tecnica che dovrai utilizzare ogni volta che ti spiegherò un archetipo è molto semplice. Una volta sentite le caratteristiche, gli elementi che lo costituiscono, sarà per te importante percepire o meno una risonanza, un riscontro interiore, una conferma se vogliamo definirla così, tra le tue aspirazioni, la tua natura profonda, la tua essenza e queste caratteristiche. Sì, perché potresti essere, per dire, non lo so, un guerriero oppure un sovrano o potresti ritrovarti nella figura del mago, vedremo le sue caratteristiche, oppure in quella del distruttore, anche il distruttore o il ribelle ha delle caratteristiche negative ma anche positive, il rivoluzionario, colui che cambia le regole, colui che ribalta la condizione attuale. Una volta trovati gli accordi, le risonanze con questa figura, potrebbe nascere spontaneamente nella tua persona una voglia, una energia, delle risorse supplementari che ti aiuteranno a capire meglio le tue convinzioni, i tuoi valori, le tue capacità e come andare nella giusta direzione per realizzare finalmente la tua esistenza, non quella di un altro, la tua vocazione, una vita piena, appagata e compiuta. Quindi ti rispiegherò ogni volta un archetipo e per pochi minuti ti accompagnerò durante l'esercizio che dovrai fare all'interno di questo video e anche dopo volendo. Quindi ti chiedo di seguirmi, di condividere se ti fa piacere questo video e gli altri con altre persone, amici, conoscenti, cari, sulla tua pagina magari, persone come te in una fase di trasformazione, alla necessità di un cambiamento, di una seconda vita, forse di quelle prese coinvolte da quel desiderio profondo, inarrestabile, da quell'urgenza di ritrovare la prima vita, la vita essenziale, la vita profonda, la vita che da prima di nascere gli era stata in qualche modo consegnata e che per qualche motivo ancora non hanno fino in fondo conquistato. Allora alla prossima puntata, se ti è piaciuto questo video ti chiedo un like, un mi piace e di iscriverti se non l'hai ancora fatto al mio canale che è Destino Terapia o di visitare il mio sito che è www.destinoterapia.it. Buona vita, buon tutto, buon destino da Rosario Alfano. Grazie.